Buongiorno, sono Alberto Pellero, direttore marketing di VUCA Romolta d'Italia. Siamo qui presenti alla fiera MEXPE con uno stand in cui proponiamo delle tecnologie innovative quali lightweight robot e dei robot industriali waterproof per il settore macchine utensili e non solo. Per noi è una fiera molto importante con moltissimi contatti ogni anno.